Alto TS212 Diffusore attivo da 12 pollici con 1100 watt di picco ideato per il mondo DJ. Ora disponibile nel nostro negozio online. Il TS212 dispone di un sistema a due vie in bass reflex biamplificato in classe D. Con una potenza continua di 550 watt RMS suddivisi in 350 watt per le frequenze basse e 200 watt per le alte frequenze, è in grado di generare una pressione sonora massima di 127 decibel, con una risposta in frequenza da 46 a 22.000 Hz. Il tutto racchiuso in una resistente struttura in polipropilene dal design accattivante. Gli amplificatori del TS212 sono ad alta efficienza con una bassa dispersione di calore, il che consente di avere un pannello posteriore privo di aperture di ventilazione. La disposizione dei trasduttori sulla parte frontale prevede nella parte alta un tweeter al neodimio da un pollice con caricamento a tromba dedicato alle frequenze medio-alte. Nella parte centrale trova posto il woofer da 12 pollici con magnete ad alta potenza da 2,5 pollici. Infine, nella parte bassa, il sistema Bass Reflex con i due fori simmetrici. Il pannello posteriore prevede un doppio ingresso combo jack XLR di tipo bilanciato e un'uscita XLR bilanciata per il collegamento in serie di altre casse. Entrambe le linee sono dotate di controllo di volume con la possibilità di ospitare sia segnali line che microfonici. Sono inoltre presenti i LED di accensione e il LED di intervento del limiter, oltre al tasto di separazione tra massa e impianto di messa a terra, e il tasto contour per l'enfatizzazione delle frequenze medio-basse, utile nel caso di posizionamento su stativo. Grazie alla sezione smussata, il TS212 può essere utilizzato orizzontalmente come monitor. Alla base della cassa troviamo una piedinatura in gomma pesante per l'appoggio a terra e il foro da 35 mm per la sospensione su stativo. Per la sua movimentazione, il TS212 è dotato di quattro comode maniglie, disposte ai lati, sulla parte superiore e nella parte bassa, in prossimità dell'ingresso dell'alimentazione. Ora passiamo ad un breve test d'ascolto. Per la sua movimentazione, la parte bassa, in prossimità dell'alimentazione. Per la sua movimentazione, la parte bassa, in prossimità dell'alimentazione. Per la sua movimentazione, la parte bassa, in prossimo video. No Come evidenziato da questo breve test, l'Alto TS-212 è un diffusore dai bassi pronunciati e alti squillanti per un sound che si adatta perfettamente alla dance music moderna. Il TS-212 può essere abbinato ai subwoofer della stessa serie per un maggior groove musicale oltre a consentirne l'utilizzo in situazioni più impegnative. Per il prezzo e per ulteriori dati tecnici visitate il nostro negozio online.